Nel Porto di Augusto è il più grande impianto di rimozione di anidride carbonica aria mare. Nel Porto di Augusto è stato realizzato il più grande impianto industriale del mondo in grado di rimuovere dall'aria 800 tonnellate di anidride carbonica ogni anno e stoccarle in mare attraverso un processo chimico sotto forma di biocarbinanti di calcio con notevoli effetti benefici per l'ecosistema marino. Si tratta di una tecnologia particolarmente innovativa ideata e realizzata dalla start-up italiana Limanet che aveva già sperimentato alla Spezia un progetto pilota con sequestro di CO2 nel 2023 ora aumentato per lo scalo augustano di ben 100 volte nelle dimensioni con una capacità di stoccaggio di CO2 per 100 kg all'ora. Il ruolo del nostro ente è anche quello di tutelare il mare oltre che il territorio, sottolinea Francesco Di Sarcina, presidente dell'autorità del sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Dobbiamo considerare il mare come centro di vita della nostra economia e del nostro commercio, dunque è necessario proteggerlo. Per questa regione abbiamo accolto con profonda attenzione e forte interesse un'iniziativa di Limanet che dona al Porto di Augusto un record mondiale nel passaggio aria-mare dall'anidride carbonica e possa essere da stimolo per altre strutture portuali italiane non solo al fine di adottare strumenti potenti ed efficaci nella salvaguardia dell'ambiente marino. Costituita un anno e mezzo fa la società fondata da Giovanni Cappello, uno dei più grandi esperti in Italia di classificazione, Stefano Cappello, ingegnere ambientalista di Enrico Noseda, già cofonder di diverse start-up di successo, ha consolidato la propria tecnologia sul mercato. Dopo anni di ricerca e di esperimenti siamo onorati di presentare il nostro primo impianto industriale ad Augusto, evidenzia Stefano Cappello, amministratore delegato e founder di Limanet, il risultato che segna un passo significativo nello sgruppo della nostra tecnologia e nella crescita della società. Nell'ultimo anno abbiamo venduto i primi crediti di CO2, equivalenti a mille tonnellate di emissioni negative, grazie all'accordo con Climadao e concluso un percorso di accelerazione presso Faros, acceleratore della Blue Economy della rete CDP Venture Capital. Grazie alla collaborazione con l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e con il Comune di Augusto, abbiamo avviato il primo progetto in Italia di rimozione del carbonio nel mare tramite i bicarbonati di calcio. Nel 2024 Limanet ha aumentato il capitale di 5 milioni di euro e ha ricevuto l'opinione di verifica positiva di Rina, ente di certificazione tra i più importanti in Italia, ottenendo la certificazione ISO 14064-2 della propria metodologia per la rimozione del CO2. Sono pochissime le società al mondo ad averla. La presentazione dell'impianto di Augusto a Milano nel corso del convegno Limanet Opening, moderato dalla stakeholder ad impact specialist di Limanet, Beatrice Capano, che ha fatto il punto sui risultati della ricerca scientifica e sugli obiettivi futuri della società, tra cui quello di costruire entro la fine del 2025 un altro impianto che vada a integrarsi con quello a Augustano. All'incontro hanno preso parte, oltre a disarci nei fondatori di Limanet, anche rappresentanti del mondo scientifico, industriale ed economico.